Gentili telespettatori, buona giornata. La Lega contro Mattarella perché Mattarella dice state ancora tirando alle lunghe con queste concessioni balneari, dovete adeguarvi alle direttive europee, ma la Lega dice che la priorità è garantire famiglie e lavoro. A me piacerebbe che la politica di oggi garantisse un lavoro degno a tutti quelli che sono considerati lavoratori poveri, quindi quei 3 milioni e mezzo o 4 di lavoratori poveri e anche quei 3 milioni e mezzo o 4 di lavoratori che sono quasi poveri. Intanto, come vi dicevo, Mattarella al Quirinale parla proprio del mercato della concorrenza. La Lega per qualche ora non risponde e poi fa un comunicato dicendo che la Lega è impegnata, come da anni anche in questi giorni, per garantire diritti e futuro alle migliaia di lavoratori e imprenditori del commercio ambulante e del settore balneare. Perché il rimprovero di Mattarella non era solo sui balneari, ma anche sui commercianti ambulanti. Poi la Lega continua dicendo che non ci arrendiamo a chi nel nome dell'Europa ha provato a svendere lavoro e sacrifici di migliaia di italiani, dice Stefano Candiani. La posizione della Lega è sempre la stessa, è contraria. La lotta contro questa direttiva Bolkstein è uno dei non molti punti di continuità nella storia della Lega. Ecco, perché questa direttiva è stata approvata nel 2006. Nel 2004 la Lega si era opposta, ma nel 2006 era stata approvata. Nel 2019 Salvini fece leggere al Parlamento Massimo Casanova, suo grande amico e frontman della famiglia proprietaria del papete, la Disco Beach, il cui nome è legato indissolubilmente alla candidatura del governo giallo-verde. Durante l'ultimo Consiglio dei Ministri del 2023, proprio a fine dell'anno appena trascorso, il 29 di dicembre, Salvini in persona ha svolto un'informativa per illustrare il frammentato quadro normativo del comparto, in attesa che sia formalizzata la posizione secondo cui le spiagge non si dovrebbero mettere a gara in quanto molte parti del litorale non sono occupate da stabilimenti balneari. Non ci sarebbe dunque scarsità della risorsa natunale disponibile. Cosa vuol dire? Che non tutte le spiagge italiane sono date in concessioni, perché vengono date in concessioni, parliamoci chiaro, le spiagge che si trovano in un punto commercialmente valido. Naturalmente se andate nel litorale laziale o riminese, andate nelle zone dove non c'è niente, chi è che prende un'attività, una concessione balneare in un posto dove poi la gente non ci viene? Le aziende balneari funzionano in alcuni punti ben riconosciuti delle spiagge italiane. Certo che se mi vai a fare una concessione balneare in Sicilia, nella costa sud tra Gela, Pacchino, Portopalo, dove non c'è in alcune zone assolutamente nulla e c'è anche una riserva naturale, se tu mi fai uno stabilimento balneare lì chi cavolo ci va? Nessuno. Dietro non c'è né una città né un paese né niente. Quindi è ovvio che ci sono tanti posti dove fare uno stabilimento balneare, ma non lo si fa perché non conviene, parliamoci chiaro. Intanto Rimini, Lecce e alcune amministrazioni hanno già bandito le gare proprio per i balneari, ma Salvini spiega che è opportuno evitare che le amministrazioni competenti assumano iniziative disomogenee. Quindi Salvini vorrebbe fermare quei comuni che invece in autonomia stanno già facendo le gare per l'assegnazione degli stabilimenti, come chiede l'Europa. Ma guardate che è solo una questione di tempo perché così continuiamo ad andare avanti pagando multe, perché noi non ci adeguiamo e stanno già arrivando diverse multe su questo caso e così giorno per giorno noi paghiamo un sacco di soldi, milioni di multe. Multe su multe in un paese indebitato. Quindi se questa direttiva è stata approvata nell'Italia nel 2006, prima o dopo bisogna arrivarci evitando anche di pagare le multe. Però magari si tira avanti per tutto il governo Meloni, poi magari arriva un altro governo e l'approva subito. Quindi è solo un tirare avanti. L'invito dei comuni era semplice, non fate le gare, ma i bandi sono ostili non solo i leghisti ma l'intera maggioranza, a partire anche da Giorgia Meloni, che lo scorso novembre parlava l'iniziativa di iniziare una nuova contrattazione con la Commissione. Dobbiamo dare la certezza del diritto. Il punto è che fare nuove contrattazioni sui balneari, nuove contrattazioni sul MES, il fatto è che prima non si deve dire sì e poi scontrarsi. Il punto è che l'Italia continua a cambiare governi continuamente e c'è un governo che dice sì, quello che arriva dice no, poi ne arriva un altro, dice sì, no, sì, no e si va avanti così. Se ci fosse una linea unica dei governi stabili, un governo dice no, punto e basta, al posto che un governo dice sì, poi ne arriva un altro, ecco. Intanto in realtà le osservazioni del capo dello Stato riguardano di più il commercio ambulante che non le spiagge, che sono citate come esempio analogo, quindi il capo dello Stato parla, commercio ambulante e anche gli stabilimenti balneari. Secondo il censimento il 70% delle coste non è occupato, dice Maurizio Gasparri, ma questo è ovvio, nel senso, a Rimini, lo stabilimento balneare a Rimini, ok, fuori Rimini, tra un paese e l'altro dove non c'è niente, lo stabilimento balneare non serve, per questo che il 70% delle coste non è occupato, ma questo non, insomma, è un po' girarla come conviene. Ecco, il punto spiega è che basta andare in un mercato comunale per accorgerci che ci sono banchi e banchi vuoti. Negli ultimi anni si sono già persi già 20.000 posti vendita, il problema è la moria, non la concorrenza. La concorrenza viene alterata da Amazon, non da bancarelle che chiudono giorno dopo giorno. Da questo il senatore è convinto che a breve si dovranno riunire le commissioni per discutere della lettera del Capo dello Stato, non possiamo non rispondere e non dare seguito a una lettera del Presidente, peraltro scritta in punta di diritto. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci e grazie.